Buongiorno, è lui o non è lui, certo che è lui, lo schiso, buongiorno lui, cazzo comunque, forza! Stamattina va la nanna, lo lasciamo riposare e noi partiamo anche perché sono in ritardo. Oggi è mercoledì, no, vabbè, sta pieno, sta pieno, guarda il lavoro, no, io me la sento, è troppo pieno, no, no, è troppo pieno, mamma mia, che poi raga sta pieno quello che poi si è utilizzato per tutto, ma stamattina è imbarazzante, mamma mia, sta pieno. E voi la mattina, ieri ho preso la moto, ho lasciato la macchina a mi sorella, guardate che lavoro, guardate dove sta lo sterzo, cioè, c'è il sedile dentro il copano, ma come cazzo faranno le donne a guida? Anche, vi ricordate lo scarabeo, quando c'avevano lo scarabeo e il motorino, stavano tutte in proma così, è uguale sulla macchina, guarda il lavoro, si sbatte la testa sul parabrezza, porco, ma come cazzo si farà? Che nervoso, guarda, non va più avanti, è tutto avanti. Mamma mia, che musichetta, proprio da mercoledì, per far scivolare la settimana, sulle mani, sulle mano, io vi amo, ci siamo, ci siamo, ok, ci sei? Scendi giù dal letto, buongiorno c'è Carletto, vai al gabinetto, buongiorno c'è Carletto, buongiorno perfetto, te lo da solo Carletto, ok. Oh no, tre motivi per vincere un iPhone su Bidu, scrivi, tu scrivi, scrivi, scrivi tre motivi, ma io non scrivo, ma non so che è. Primo motivo, ci sono degli iPhone a basso costo, ok? Oh no, guarda, guarda, ieri, guarda Pepponia, oh, guarda Pepponia, Pepponia o no, guarda, 25,64 euro, venduto. Conno motivo, se tante volte non vinci su un'asta, puoi acquistarlo direttamente da Bidu e lo paghi molto meno rispetto all'Apple Store. E Bidu ti ridà tutte le puntate giocate, terzo motivo, no, terzo, terzo e ultimo, regaliamo 10 puntate gratuite a chi fa swipe up, vai. Due pass, due pass, due pass, swipe up, due pass, la roba che è arrivata, va. Eh, vabbè, fanno l'unbox. No, ma fanno l'unbox. No, ma fanno l'unboxing. Non smarre tutto. Adesso l'unboxing. Fermate, testa di cazzo. Quello cortello serve per il prosciutto. Ma fa l'unboxing. No, non montagli, legalo. Ma l'unboxing si fa col coltello. Ma via che sto pensiero. L'unboxing. Sì, ramboio, dai. Col fiorito è arrivata. Guarda, apriti qui. Qua, le mascherine, quella. Guarda, 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 tocca un po' le muschie. Eh, ma te, testa di cazzo. Un'altra volta. E me butta addosso. Ma quanto è bello fare l'unboxing con il nonno. Ti da gusto fare l'unboxing? Oh. Ma qual è l'unboxing? L'unboxing? Ma io non ho niente. Facciamo gli unboxing, no, là. Facciamo tanti unboxing. Fermate! Ah! Facciamo questi unboxing. Ma l'altro ti dico io. Nonno. Nonno. Oh. Anche il mestolo. Ah, come? Mi ho dato la testa? Anche il mestolo ci ho dato. Finta, coi, coi. Mestolo su un culo. No! Mestolo! Eh! No, le merangole! Le merangole? Sì! Ma che hanno le merangole? Ma tu, tu, tu te lo ne sei. Due? Tu te lo ne sei. Questo si chiamano merangole. Sì. Eh, arranci. Bello. Chiappelo, vai, chiappelo. Una. Due. Aia! Attenzione, il lancio. Che di coglione, scena. Che di coglione, scena. Che di coglione, scena. Oh, che c***o è il cane, no? Chi è il cane? È un figlio della mignota, nel senso che fai, eh. Che fa? Un figlio della mignota, vai. Scena di una coglione. Ma. Che va a diventare. Commedia. Ma tanto, io te l'hai di mettere l'acqua di qui. No. Come se c***o? Oh. No. Vabbè. Vieni in goccio. Vieni in goccio. Ma va a pancuno. Vieni in goccio. Ma va a pancuno. Vieni in goccio. Ma a pancuno. Fermate. Ma guarda quello che ho fatto. E' da sta fermo. Ma perché? Ti dà leva di coglione. Tutti qui non ce ne devono prendere. Ma perché? Ma cosa fai? Le scalette che hai fatto lì. Le scalette che hai fatto? Te l'hai da andare. E' l'amore mio. Vabbè. E tu? No. Tocca tagliare per bene. Ma l'hai tagliato bene. Le ho tagliato bene. Ma l'hai tagliato bene. No. Non la tagliare bene. Te l'hai da andare. No. Sta bambando. Mazzate lei. Grazie a Simone per aver acquistato dal nostro merchandising. Saluta Simone. Ciao Simone. Meglio. Ciao Simone. Meglio. Ciao Simone. Meglio. Ma vuoi già f***o? Ciao Simone. Vado a partecipare anche voi a questo magnifico contest. Sai che è il contest? No. Meglio. Fate Swipe Up. Acquistate un articolo e potrete essere sorteggiati per un saluto e un vaffanculo sulla storia. Va bene. Swipe Up. Va bene. Fermi. Fermi. Ma tu? Fermi. Ma va bene o no? Ma io ti vuoi bene ma la stai fermo con le mani. Ecco qua. Con le mani la stai fermo. E la stai su. Sì. Tangentopoli. Vado a comprare il matarazzo. Non è capo come voi altri. Che era comprare? Ha comprato un matarazzo. Al posto del matarazzo gli ha mandato un pozzo. Quindi la Tangentopoli com'è? Questa è la tangente. Guarda quanto è contento. Non c'è male. Guarda che tangente. Ho messo la bottega. Hai messo la bottega? Eh. Ma te vuoi comprare il letto con il matarazzo quello di memory? Con il memory vuoi comprare? Sì. Sei interessato a un memory? Ma lei con tutte queste tangenti che... Compro e pago subito io. Perché? Come perché? E che vuole cambiare le rate? Qua mi importa. Scarca il letto e gli do i soldi. Top. Eh. Comunque era uno scherzo. Dammi i soldi. To! Che cazzo è te l'altro? Dammi i soldi. Come no? Dai, no. Come no? Io ero più sicuro. Dammi i soldi. Eh? Sì. E questo ormai è un cambiare la proprietà. Adesso come memory? Memory? Quello per televisione che c'ha la rete che... S'alza e s'abasso. E dove va? Davanti e dietro. E dove va? Sta ferma, dove va? S'alza dietro, s'alza davanti. Ma si'alza più davanti o dietro? Eh, uffi. E a che ora si alza? Quando spegne il bottone c'ha il colpo elettrico. Elettrico o elettrico? Elettrico, elettrico. Ma di che colore c'è il bottone? Eh, cazzo ne so io. Ma... Che cazzo l'ho visto. Ma... Nooo! Questo è il bar! Che cazzo! Abbiamo visto tutti! Che cazzo! Che cazzo! Attenzione, c'è il bar! Hanno sentito, mannaggia al pa! Stanno consultandosi! Che cazzo! 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 Vieni a dormi con te! Sì, andagli! No, no, no! Sì, no, no! Va a dormi che una bella figa! Un becile! Sì, vieni a dormi con me! Sì, so vecchio! Lavorati! La grande telecronaca di Riccardone Trevisano con il cross di cross! Destro-sinistro antipasto misto! Grande Ricky! Ci abbiamo dopo? off... off! att e